ben a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video sono materno the batman e oggi siamo su dino dei gioco che ho trovato gratis e questo sarà una mia piccola recensione non lo so se avendo detto questo qualcosa così mi verranno tremila addosso però comunque questo allora ammettare quindi mettere proglie ok mettiamo il bot perché non essendo io online allora non so allora siamo difficolti dimonare da e normal va bene mettiamo come sono 10 bocci allora costumiz boc no questo a me dai proviamolo così io sarò un dinosauro viva i dinosauri i dinosauri i dinosauri po 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 i dinosauri i dinosauri i dinosauri i dinosauri ok welcome to dino day ok io sono uno stupido soldato uffa io volevo essere un dinosauro no stanno sparando non vedo niente io sparo ecco mi sembrava strano sono un dinosauro eccolo di prima e mi piace lo con lo studio che cos'è quello di prima marito tutti non lo so strano aspettate quale sono i miei nemici a no no e la prima volta bruttos dinosauro de merda ne ho sapevati io parlo anche spagnolo alla faccia vostra io parlo spagnolo cecchianaggio alto cecchianaggio attenzione No, 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 non faccio la pizzica Ma quello lì è un dinoro Sembra un veloci rapto Che figata Non vedo niente Non so Certo Certo, dai Vogliamo essere più sleali di così? No, no, no No Si può Scegliere la classe Guarda, quello è fortissimo Che cazzo non mi so Io voglio essere un denotauro Cichinaggio Headshot Non vedo nessuno Non ci credo Mancava poco Vabbè Non c'erano così forte Perché è la prima volta che gioco È la prima volta Ragazzi, è la prima volta Vorrei sottolinearlo Sottolineo Dai, ultima vita e poi smette Sono un dinosauro Si Stupida pecora Deve finirla VIVA I DINOSAURI I DINOSAURI I DINOSAURI VIVA I DINOSAURI VIVA I DINOSAURI Oh, là c'è un dinosauro nemico Mi metto qua il santo Non ci credo Sono un dinosauro io Anche quei dinosauri Dai Aspetta Come si fa a cambiare classe E andare a più Dai, sono una merda Si, sono un altro dinosauro Mi fai andare avanti? Si, grazie Voglio andare avanti Voglio andare avanti Cazzo Non mi fa muove, beh Per oggi è tutto Ti posto il mantello di Batman Che seguirà la seconda puntata Oggi sono una donna Ciao Ciao